Le regole sono fondamentali per mantenere una comunità unita, sicura e soddisfatta. Esistono delle leggi che guidano la nostra bussola morale, altre che modellano i nostri comportamenti e che assicurano decisioni positive per la collettività. Tuttavia, allo stesso tempo alcune leggi possono rivelarsi fallaci e sono in grado di fare più male che bene, specialmente se vengono in fronte da persone che non sanno nemmeno di essere nel torto. Questa è la storia di Jerry Sattel, convocata in tribunale a causa di una legge che non conosceva. L'ultima cosa che vorremmo mai vedere nella nostra cassetta della posta è un mandato di comparizione in tribunale. È così che inizia la storia di Jerry Sattel, una 75enne del Texas. Prima di incappare nei cavilli burocratici, Jerry conduceva una vita tranquilla, da pensionata. Aveva lavorato per la maggior parte della sua vita, quindi quel periodo doveva essere destinato al relax e alla tranquillità. I giorni di lavoro dalle 9 alle 5 e 7 giorni su 7 erano ormai finiti. Jerry era andato in pensione con la prospettiva di godersi i suoi ultimi anni in completa serenità, ma i suoi piani sono stati infrenti da quel mandato arrivato per posta. Molte persone si preparano all'età della pensione acquistando un piccolo appezzamento di terra in cui rilassarsi fino alla fine dei propri giorni. Magari con un portico assolato su cui leggere il giornale o fare i cruciverba. Sicuramente anche Jerry aveva comprato la sua casa con quell'intenzione. Sfortunatamente, la vecchietta aveva fatto il passo più lungo della gamba, senza nemmeno rendersene conto. La sua proprietà comprendeva un terreno di quasi un ettaro. Per capirci, misurava circa 30 campi da tennis o 312 parcheggi allineati. Prendendo in considerazione la sua età avanzata, non ci stupisce che Jerry non stesse curando il suo terreno con la dedizione che avrebbe mostrato in gioventù. In fin dei conti, non aveva più un fisico di una trentenne e i suoi 75 anni si facevano sentire. Questo però non significava che si aspettasse una visita dalla polizia inviata dal comune per notificarle un crimine. Ma quale infrazione alla legge poteva aver mai compiuto la nonnina? Possibile che avesse esaurito le scorte nazionali di lana con la sua passione per l'uncinetto. Mi sembrerà una battuta divertente, ma la colpa imputata alla povera Jerry era altrettanto folle. In un paese federale come gli Stati Uniti d'America, ogni regione ha diritto alle proprie leggi e norme. Quindi ciò che viene considerato un crimine in Louisiana potrebbe essere perfettamente legale in California e così via. Per molte persone il sistema giudiziario può essere una benedizione, ma siamo certi che per tante altre sia semplicemente un labirinto di cavilli che generano un'enorme confusione. Jerry apparteneva a questa seconda categoria. Lo Stato del Texas prevedeva infatti una legge che l'ha lasciata bocca aperta. Secondo il decreto, l'erba che ricopre una proprietà privata non può essere più alta di 45 centimetri. Pena una multa salata. Anche per una persona che aveva vissuto per decenni nella cittadina texana di Riesel, come Jerry, quella legge era un fulmine a ciel sereno. Il decreto era stato promulgato con l'espresso obiettivo di impedire ai residenti locali di trascurare i propri giardini, trasformandoli in quelli che venivano considerati cortili disordinati e poco igienici. La povera Jerry, però, non ha ricevuto una semplice multa, ma direttamente un mandato di comparizione in tribunale. Il capo della polizia di Riesel, Danny Crumnow, ha dichiarato in un'intervista che l'erba sul terreno di Jerry era troppo alta e infrangeva la legge precedentemente discussa. Sebbene la donna non avesse mai ricevuto una multa, né tantomeno un avvertimento verbale che la mettesse al corrente della situazione, ormai si trovava in grossi guai con la legge. Era un pomeriggio come tanti altri quando Jerry ha sentito bussare alla porta d'ingresso. Dall'altra parte c'erano degli agenti che l'hanno informata di aver infranto la legge. Jerry ha avuto la prontezza di riflessi specificando di non aver mai sentito parlare di quella legge, ma i poliziotti non hanno fatto marcia indietro. Sentendosi accusate ingiustamente dal mandato ricevuto, la vecchietta non si era presentata in tribunale per l'udienza perché riteneva ingiusto quel trattamento umiliante. Il suo gesto di sfida, però, non era stato gradito in tribunale, dove il giudice aveva pubblicato un mandato di arresto e spedito i poliziotti a casa sua. Fino a quel momento Jerry aveva condotto una vita tranquilla, senza screzzi con la legge, né tantomeno litigi con i vicini. Immaginate di trovarvi nella sua stessa situazione. Siete in casa vostra a godervi il silenzio quando ricevete la visita inaspettata di una squadra di poliziotti che vi comunica che nel giro di pochi giorni tornerà ad arrestarvi per un crimine che non avete neanche mai sentito nominare. Cerchereste di trovare un compromesso con la legge oppure ve la dareste a gambe tra una visita e l'altra. Jerry pensava davvero che sarebbe finita in prigione per colpa dell'erba del suo giardino. Ma non poteva immaginare che quattro principi senza cavalli bianchi stavano correndo per salvarla da una sentenza pericolosa come un drago sputafuoco. Jerry stava cercando una soluzione a quel pasticcio, quando ha notato dei rumori strani che provenivano dal suo giardino. La vecchietta non aveva parenti prossimi nella zona e suo marito era venuto a mancare diversi anni prima, quindi non sapeva proprio chi potesse aver messo piede nella sua proprietà senza nemmeno avvisare. Lentamente, con circospezione, Jerry si è alzata dalla poltrona e si è avvicinata alla finestra. Ha scostato leggermente una tenda per guardare fuori e ha drizzato le orecchie, temendo il peggio. Quello che ha visto, però, l'ha lasciata piuttosto perplessa. Il rumore proveniva da quattro uomini che si stavano aggirando nel suo giardino. Jerry non li aveva mai visti prima. Possibile che fossero venuti a prenderla per portarla in prigione. O magari erano venuti a sapere della sua sentenza e stavano perlustrando la proprietà per tornare a derubarla in seguito? Jerry non si lasciava intimidire facilmente, ma sapeva bene che non avrebbe potuto fare molto in uno scontro quattro contro uno. Nel 2018, un anno prima di questa storia, le statistiche hanno rivelato che i crimini violenti nei confronti degli anziani avevano raggiunto cifre mai viste prima. Jerry era sicuramente al corrente della situazione globale dei suoi coetanei, soprattutto perché le stesse statistiche sostenevano anche che almeno un anziano su sei aveva sperimentato sulla propria pelle qualche forma di abuso fisico, mentale e motivo finanziario da parte di persone più giovani. Purtroppo, gli anziani vengono considerati deboli e ingenui e per questo ideali da raggirare o sottomettere con la violenza. Jerry aveva ancora una mente brillante, ma niente avrebbe potuto prepararla per quello che stava per succedere. Le quattro sagome si stavano avvicinando alla casa. In quel momento Jerry ha notato che gli uomini erano in realtà dei ragazzi. Il più alto dimostrava forse 15 anni, perciò gli altri dovevano avere pressa poco la sua età. Nonostante quello, Jerry non ha abbassato la guardia e ha continuato a spiare dalle finestre, spostandosi di stanza in stanza per seguire i loro movimenti attorno alla sua proprietà. I ragazzi sembravano interessati al giardino e continuavano ad indicare per terra. Jerry non sapeva cosa fare. Poteva fidarsi della polizia locale. Mentre valutava le sue opzioni, Jerry ha notato movimento. Uno dei ragazzi aveva aperto lo zaino che teneva sulle spalle e aveva estratto degli strumenti misteriosi. Due dei quattro sono scomparsi all'improvviso, mentre gli altri due si sono divisi gli attrezzi. Solo in quel momento Jerry ha capito cosa stava succedendo. Gli strumenti che i ragazzi avevano in mano erano cesuie da giardino. Qualche minuto dopo, gli altri due sono tornati con dei tos a erba. Nel giro di pochi istanti, i quattro ragazzi si sono messi al lavoro di buona lena, falciando l'erba incolta senza rovinare i fiori che erano cresciuti spontaneamente. Ancora alla finestra, Jerry ha osservato la scena con le lacrime agli occhi. Erano 59 anni che viveva in Texas, eppure non le era mai capitato di ricevere un favore simile da quattro perfetti sconosciuti. I ragazzi, che si sono rivelati in seguito come fratelli, hanno spiegato a una cronista locale che volevano aiutare la vecchietta a prendersi cura del suo giardino. Uno di loro ha raccontato che non avevano molto da fare durante l'estate perché le attività extrascolastiche che frequentavano erano in pausa, e si sa, qualsiasi ragazzo farebbe praticamente di tutto per non svolgere i compiti delle vacanze. Qualcuno aveva accennato ai problemi di Jerry con l'altezza dell'erba, e i quattro fratelli avevano deciso di scendere in campo per risolvere la situazione. Sapevano bene che una vecchietta come lei non sarebbe mai riuscita a palciare un ettaro di prato, quindi hanno prestato volentieri le loro braccia alla sua causa. Commossa, Jerry si è affrettato a preparare della limonata fresca per dissetare i suoi benefattori. Non poteva immaginare che avrebbe avuto bisogno di più di quattro bicchieri perché nel giro di un'ora un altro gruppo di uomini, stavolta adulti, si è unito alla missione, e armati di tosaerba professionali hanno svolto il lavoro in poche ore. Seduta sul portico ad osservare i suoi vicini, Jerry ha cercato disperatamente le parole giuste per ringraziarli per quel gesto gentile, nonostante fosse tornata in regola con la legge. Giorni dopo il tribunale le ha chiesto comunque di presentarsi in aula per firmare un documento che dichiarava la mancata ricezione della multa originale. Anche in questo caso i suoi concittadini si sono schierati con lei e hanno avviato una campagna di protesta sui social media per richiedere l'immediata sospensione di qualsiasi provvedimento contro di lei. Quando l'emittente KWTX News ha iniziato a seguire il caso tramite Facebook, il tribunale ha accettato di revocare il mandato di arresto e di comparizione. Jerry ha potuto finalmente tirare un sospiro di sollievo e i quattro ragazzi sono stati elogiati come degli eroi per il loro gesto altruista nei suoi confronti. È capitato anche a voi di ricevere un aiuto inaspettato da parte della vostra comunità?